Buongiorno e bentrovati. Buon martedì 17 agosto. Oggi nel diritto ambrosiano ricordiamo la grande figura di San Massimiliano Colbe. Il diritto romano lo ricorda il 14 di agosto il diritto ambrosiano oggi perché nel 14 agosto fa memoria di San Simpliciano, vescovo di Milano, successore di Sant'Ambrogio. Massimiliano Colbe che nacque nel 1894 in Polonia che si dedicò a Dio fin da giovanissimo entrando nei frati minori conventuali e fu innamorato di Maria, innamorato di Maria Immacolata fondando ancora giovane frate, non ancora sacerdote, la milizia dell'Immacolata e diffondendo una sua opera mariana e missionaria per il mondo intero, anche in Giappone dove fu appunto missionario. La sua opera fu straordinaria, costruì anche una città dedicata all'Immacolata e vide tutto distrutto a causa della seconda guerra mondiale. Lui stesso fu incarcerato ad Auschwitz e qui diede la sua vita per salvare un prigioniero, un altro prigioniero polacco condannato a morte, offrì la sua vita al posto di quel prigioniero. Il suo gesto d'amore straordinario lo rese fu il coronamento di una vita vissuta per il Signore Gesù e per la Madonna e morì proprio il 14 agosto nella vigilia di Maria Assunta al cielo. Affidiamoci la sua intercessione e chiediamo di essere innamorati come lui di Maria per camminare dritti dietro Gesù. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro Rita Ambrosiano, lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi se in una famiglia vi sono cinque persone saranno divisi tre contro due e due contro tre. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Parola del Signore. Gesù è venuto nel mondo a portare il fuoco. È il fuoco dell'amore di Dio, è l'incendio della carità. Ma per divampare questo incendio della carità deve passare attraverso il battesimo della passione. Gesù desidera la sua passione. È in cammino verso la croce e la desidera, perché sa che con la croce salverà il mondo intero. Ma l'incendio della carità deve distruggere l'enemicizia, deve affrontare l'odio. Ecco perché c'è una divisione che porta il Vangelo, perché non tutti vogliono seguire il Vangelo. C'è anche chi si oppone, chi rifiuta Gesù, chi non accetta l'amore di Dio. Ecco allora che il Signore Gesù ci preannuncia che chi segue veramente il Signore incontrerà difficoltà, opposizioni, divisioni, qualche volta anche in famiglia. E questa è un'esperienza quotidiana che capita a tanti di noi, che il Signore ci doni di essere innamorati del Vangelo e di metterlo in pratica. Buona giornata. In questo sia l'esempio e l'intercessione di San Massimiliano Colbe a trascinarci. Buona giornata. Sielo dato Gesù Cristo.